Saranno 18 i richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, che saranno ospitati a Capodorlando in una struttura privata di Contrada Malvicino. A stabilirlo è il Ministero dell'Interno che ha mandato in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale le graduatorie dello Sprar, un progetto per i migrati e rivolto alle categorie dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, minori non accompagnati richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria e disabili. In provincia Rodimilici, Montalbano e Licona e Milazzo per il triennio 2014-2016 hanno ottenuto risorse per circa 600.000 euro, Castro Reale per un progetto di prosecuzione circa 650.000 euro, Capodorlando oltre 700.000 euro, infine Barcellona il contributo più alto in provincia di Messina con 1.200.000 euro circa. Sono stati esclusi i comuni di Sant'Angelo di Brolo e Fondachelli-Fantina. Al fondo potevano accedere comuni, unioni di comuni, province, anche in forma di consorzio, in partenariato con le realtà del privato sociale e proprio in questi termini il comune di Capodorlando ha aderito redigendo un bando in cui i privati mettessero a disposizione strutture e professionalità, bando al quale è stata data ampia diffusione ma al quale ha aderito una sola società. Ad affiancare il comune è infatti la Sisifo, società presente da tempo in questo tipo di settore e che gestisce anche il centro di prima accoglienza di Lampedusa. La società, composta da cooperative, ha messo a disposizione un piano della Casa Anziani che già gestisce nei pressi della Chiesa di San Giuseppe e soprattutto il suo personale. Ovviamente tutto verrà gestito dalla Prefettura, visto che nel centro saranno ospitati soprattutto i migrati che attendono la concessione di asilo politico. Saranno 18 e potranno rimanere per un massimo di 6 mesi ognuno. Complessivamente però i fondi serviranno per far funzionare la struttura per un triennio. In provincia, nel recente passato, un grosso centro per richiedenti asilo era stato realizzato a Sant'Angelo di Brolo ma ormai le linee impartite dal Ministero sono proprio quelle di disattivare le grandi strutture e di dividere gli immigrati in centri più piccoli e facilmente gestibili sotto il profilo dell'ordine pubblico.